musica 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 non interessa non ci sali su ok non viene già non viene già musica musica devo distorcere i cannoni si devi attivare o ok questo lo ha attivato vediamo qua sotto chi si manda e lì c'è un altro cambio perchè forse un altro è la se riesco ad arrivarci ok devo cambiare con Spongio vabbè lo posso fare dai 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 ti serve ancora Sandy penso di sì però quello per forza devo farlo con Spongio manca un cannone perché ci sono i pezzi più in alto lassù posso provare ad andare di qua pericolamente un pezzo di siena cazzo subito cazzo cazzo di merda eh fammi eh di amore merda ma lo diciamo non è niente guarda c'è anche un cozzino dove? o una mufanna non so cosa è via della mufanna si di su sali di su sali di su in fondo lì dove c'è il piloncino qua giù ah vabbè è una mutanda però vabbè c'è un piotero e c'è un canzino mi ha sembrato di vederlo prima sicuro che non è arrivato sopra? si guarda ti puoi versi in alto vai ah è vero mi ha sembrato di vederlo oh altri che sarò felice di riaverlo non ho visto niente poi ho visto una cosa ah di posto se arrivi sui bidoni ci saltavi ci arrivavi ah ti servo comunque sfondo eh devi rifare la pallacoda lì si eh si dobbiamo riandare lì che sei caduto lì ah qua è vero ok adesso devo camminare ma hai capito bene alla fine e poi ci sei saltato di pretta rivederlo beh perché vi è cascato subito il no no non dico vado di qua comunque vabbè gli devi andare qui su forza l'ultimo dico se ci vedi che c'è una ma io penso che questa è abbastanza in alto non so se ce la fai non mi piace cosa fare andare diretto qua schifando non andare di là adesso gira di là gira di là però guarda ci arrivi se fanno te no devi arrivare ma su qua c'è qualcosa vedete con le manettine sopra devi arrivare a scena lì su per forza per forza per forza questo lo dovrei prendermi ah è quello ok ok to saltiamo un po' ma questo è veramente il mordo ma questo è veramente il mordo sì sì robot va bene dai qui abbiamo distrutto un'altro generatore lì c'è qualcosa guarda lì c'è una viola sopra lì no guarda lì c'è una viola sopra lì si no guarda si giù 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 è una cosa che sta vedi? ah ok così posso saltare posso arrivare sia alla spatola che a quello blu del regamento almeno credo vai proviamo? vai vai altre strade comunque cosa c'è rimasto? qua sopra? ci si arriva da qua? sono da quei costi che vedi? deve fare così via vedi bene da quel coso? giù? posso farlo? ok vogliamo farlo? si dai vedi dove ti porti? ah è scriptato e arrivo da sola? vediamo eh dai rimi che arriva da sola per la viola no è assolutamente adesso vai facci adesso poi ti riputti giù e lo riprendi vai ok prendi il salto si qui abbiamo una posizione tattica da qui possiamo fare il cazzo che ci pare schippare tutto quel pezzo lì oltre quello possiamo andare al cannone si ma vai prima di fa magari lì c'è un bottone? si c'è il cannone guarda i due quello c'era all'inizio non so vabbè vai prima di fa' quando mi avrei detto ti vai i cannoni qui? andrei prima di fa' non vorrei che dopo quei cannoni ti fusi il bugo qualcosa e ti sparisce la nave di là ok quindi andrei a vedere va bene ok allora vado ti lì e prendi tostigmi mi faccio Sì, attenti, vai, ti lascio, ti lascio quello verde, guardiamoci intorno, ti vieno, sopra no, io non vedo più uno, sì, penso che puoi ritornare indietro, no, calzino imboscato, quanti calzini ci mancano? Allora, avevamo visto, no, dove andiamo, c'era un bottone laggiù, quello là, se è un bottone, ne dico, quanti calzini ci mancano, andiamo, no, scusate, se non sono stranieri, non te ne da lì, andiamo, dai, torniamo, cioè vado a fare il cannone quello là, che è l'unico che ci manca, no, quello là su, quello lo so, quello lo so in alto, dovrebbero stare, ok, tutti i cannoni sono prendi a far fuoco, no, ok, devi sparare tu, allora, c'è di tornare indietro, ok, però mi serve sponso, per quello devo cliccare, allora, tu hai capito quale è delle due navi? Sì, sarà questa qua, perché i cannoni sono tutti, però, ti buttare così dopo, ma c'è la nave qua, teori, ma non riesci a salire, dove devo salire, ah, lì devo salire, Sì, ok, senza non ti buttare a casa, se non ti buttare a casa, sì, sì, no, hai fatto capito, vai, vai, cambiamoci, ecco l'ho visto il canale dello Spongebou, ci salta su, è il nostro uomo Spongebou per questa missione, dobbiamo agguzzare la vista, perché magari il calzino lo vedi, adesso, in una scena, tu avrei visto? No, abbiamo qui, ce n'era uno, non credo ce n'era un altro, dai, è solo per ragionare è vera, abbiamo ripreso la tua nave e sconfitta i robot proprio così adesso che la guardo bene credo che mi terrò questa fantastica e non ci dovrò avere vecchio verde maledetto mi ricorda il mio primo tesoro ma il nostro accordo non bisogna mai fare affari con un fantasma un accordo vale meno di niente per me anche se devo dire che mi accordai molto bene per una zangola nel lontano 1873 che affare non c'è niente in grado di battere del burro cremoso ben smalata di sicuro non ho sbattuto quanto noi baro del burro abbiamo fatto la nostra parte e tu svicoli come un'anguilla un'anguilla dobbiamo pestarlo mi sa che dici sembra di sì conserniti cazzate se e vado là penso che si dice sul combattimento non lo vedo io sto calzino perché Spongebobron ci sarebbe mai arrivato come una cosa andiamo a guardare come andiamo a guardare la guardia come andiamo a guardare la guardia come andiamo a guardare la guardia ah dici che è così devo scrivere Non è no, non posso scherzi, non ho capito in forse che alla fine si fa un'auto colpire Non fanno freddo, non fanno freddo Ma non è, non è Sì, c'è un'altra cosa, non c'è una bella sotto Fischio Dai basta, fai la Dramas Finito Sbadiglio Sandy eh Ma non la fa più, forse devo fare qualcosa altro Meno ti prende Meno ti prende, forse fa male Questa, non rischiere No infatti, quindi manca la vita sempre Adesso ne va quanto, una riva più grande 2 3 Ah, la posso attivare anche di qua eh Non ti preoccupare Allora Allora, devi farlo un po' a prenderlo Per evitare che si resetti lui Allora, sì Ok, non mi faccio più nulla eh Questa ci abbiamo un periodo di due Il P è in bosco Allora Ancora Beh, dai, dai Le hai aspettate La mia Non ci siamo fatti colpire Dai, basta Oh Oh, è ridicola È super il naso qua È proprio volo Ah sì, ok Ehi, smettetela di litigare Credo di aver avuto un'idea Contento adesso? Oh, sembra proprio la mia nave Con anche tutta la muffa E le mosche intotte Ma come siete gentili Bene d'accordo piccole canaglie Prendetevi pure la spatola d'oro Chasında Unigos Uniques Uniques Unensor Uniques 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 Uniture Uniens Grazie a tutti.